3 1 2 Bocchetta Andre Andre Ciao Nando Grazie Grazie A centrocampo in 12 secondi dobbiamo arrivare là e vi fermate a 28 secondi a recuperare Bene? Siamo pronti? 3 1 Vai 3 4 5 6 10 11 12 12 perfetto Poi stiamo lì Usa un pochi dei portieri che lavorano Guarda No 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 Grazie a tutti. Ok. 3, 2, 1, vai! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, vai! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti